Gwenda Guria, la notta attrice e personaggio televisivo, ha recentemente vissuto uno dei momenti più emozionanti della sua vita, il ritorno a casa con il suo neonato, Noah. Dopo aver dato alla luce il suo piccolo, Gwenda è stata accolta da un'ondata di felicità e amore da parte di tutta la famiglia. Il ritorno a casa con un neonato segna un nuovo inizio, pieno di scoperte e primi momenti indimenticabili. Il piccolo Noah ha già riempito di gioia i cuori di mamma Gwenda e papà, e non c'è nulla di più bello che vederlo crescere e adattarsi al mondo che lo circonda. Dopo essersi accoccolata con Noah, Gwenda ha trovato il coraggio di portarlo fuori per la sua prima passeggiata. Questa prima uscita rappresenta un rito di passaggio per ogni neogenitore, segnando l'inizio delle numerose avventure che vivranno insieme. Gwenda, radiosa e visibilmente emozionata, ha condiviso questo momento speciale con i suoi fan, sottolineando quanto sia importante per lei e la sua famiglia vivere questi attimi di pura felicità. La passeggiata con Noah è stata un'esperienza semplice, ma carica di significato, dimostrando quanto la vita possa essere meravigliosamente sorprendente quando si vive in compagnia delle persone amate. La nascita di Noah ha unito ancora di più la famiglia, ricordando a tutti quanto sia preziosa la vita e gli affetti che ci circondano.